buongiorno a tutti ragazzi stamattina siamo qui a baia domizia per farmi fare un bagno mi ha fatto sparare 107 chilometri di soliti hanno appoggiato già le borse qui vedete la struttura come è bella l'ingresso la mia fidanzata che fa solo story instagram comunque siamo in anticipo ora mi ci accomodo relax come che hai sonno perché si sveglia dalle 6 per venire qui siamo anche in anticipo a prendere le 10 la spiaggia praticamente ragazzi qui siamo in una struttura extra russo solo il meglio per noi 57 chilometri amore mio 57 chilometri altri 50 chilometri arrivavo a roma per farmi un bagno al topo al topo cosa divertente quando siamo arrivati qui siamo usciti dall'autostrada c'erano tutte persone che vendevano meloni i limoni i limoni signora signora i limoni signora se volete visitare la struttura comea beach sa pure l'annaffiatore e vetture ma lo so voi fate il bagno lei e qui perché giù dovevi lavare anche la macchina amo ma ti sa proprio rilassando di me no quella che volevo tanto ti piace o no e la roppo quando ce ne amo ce n'aveva la putta mamma non ti preoccupare non ti preoccupare trash e che sto facendo la foto cioè perché noi fidanzati dobbiamo fare sempre foto quando si va al mare perché perché ditemelo cioè vuol dire che io non posso nemmeno alzare per fumarmi una sigaretta che mi rubi il posto c'era l'altra a fianco sei bella lo sai mi sembri uno buono mi sembri però mi sembri la cosa è più bella che mi può capitare comunque un'ora qui ad aspettare sicuramente romperemo questa sicuramente sicuramente 107 chilometri amore 106 ci saranno 32 gradi e cielo parzialmente nuvoloso baia domizia armoburta baia domizia diciamo non ho riducato ma è trapunto? no 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 non qui abbiamo anche l'idromassaggio c'è una vista dall'alto ora un bel caffettino è molto 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 caratteristico cioè la struttura è fantastica tutto perché tutto regno abbiamo l'artelena zona relax bellissimo complimenti per la location che hai trovato al top amore non so se rendo l'idea anche il cesso davvero bello c'è raga voglio far notare questo particolare guardate la tazza del bagno guardate la porta tutto calcolato e Grazie a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Bravissima, amore. Ci trattiamo bene? Felice, felice lei, felice. Mi fai spendere solo soldi, però sei bellissima. Amore mio, ti devo dare atto, questa struttura è davvero fantastica, extra lusso, super relax, come avete visto dalle clip, ragazzi. È stupenda. Abbiamo un gazebo a disposizione con ricarica, abbiamo il servizio che chiamiamo il cameriere, ci porto tutto qui. Due lettini in più. In più, per prendere il sole. Ma diciamo le cose come stanno, questa struttura ci ha contattato per avere una sponsorizzazione. Infatti, giù in descrizione tra il loro sito avrete un codice sconto grazie a noi, ragazzi. Il codice sconto è? Leano Illu proprio. Illu. Voi scrivete Leano Illu e loro vi risponderanno Leano è solo un illuso, perché non siamo così famosi che ci sponsorizzano. Non ancora. Ci arriveremo, pian piano ci arriveremo. Ma dove trovate due come noi? Ma non lo so. Vi portano ovunque. Ovunque, nelle mie giornate ci siete anche voi. Ormai, non è niente. Questa ragazza ha passato un guaio, ragazzi. E non lo so. Un guaio. Comunque, a parte di scherzi, la struttura è bellissima, ve la straconsiglio. Se vi trovate qui, è a Domizia. Precisamente, c'è cellule. Cellule. Dai ragazzi, provincia di Caserta. Mi sono sparato 107 km. Siamo ancora nella nostra regione. Amo. Però è tranquillo. Comunque, amo. Struttura straconsigliata. Ragazzi, ve la straconsiglio. E dopo io la farvi vedere, meglio. Sì, dopo facciamo un altro clip, perché dobbiamo arrivare a 8 minuti. Poi ci direte. Eh? Ci direte. Poi comunque adesso, ora direi di far partire il drone, di fare una bella dronata, perché questo posto se lo merita. Mi vale proprio rapina. Se non avete visto il video del drone, vi lascerò qui sopra in pressione il video che abbiamo unboxato il drone a 150 euro usato al top. Funziona e va alla grande. Lo sto ancora sperimentando. Speriamo di non perderlo a mare. Comunque, ora ce ne lasciamo un po'. Ci sentiamo più tardi. Ciao. 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 Dunque il drone è fatto volare, mi guardava tutta la spiaggia in modo strano, c'è una calma qui, sono arrivato io qui, sto mantenendo già un casino, comunque è dronata fatta, ora ci andiamo a fermare il bagnetto Perché vado a vedere che è bello rilassarsi Dai amore, andiamo a fare il bagnetto No Dai No Dai Amore Amore che dici, lo facciamo un'ape? Sì Pijam Grazie Appetite Amore, ci siamo addormentati, ci siamo rilassati, comunque signore e signore vi abbiamo fatto vedere la struttura dal basso verso l'alto, come avete visto, in tutte le angolazioni, questo video termina qui Siamo proprio super super rilassati, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella e mettete un mi piace se vi piace nel video, insieme quando vogliamo, vero? Noi ci veniamo a rilassare e ci vediamo nel prossimo video, diciamo ciao belli Ciao Ciao Belli Ciao 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 Ciao